VATIO VACANCE Gianluigi Leone Ad io sono Gianluigi Leone, questo è Vacanza La Radio, come sempre questo caloroso benvenuto ti viene dato dagli uffici qui della radio, della Viaggio e Vedo, l'agenzia che praticamente ci ospita ormai da molto molto tempo e con la quale Radio Vacanze collabora da tanti anni. Ma la cosa interessante in questo periodo è che ci aiuta a raccontare la musica italiana e non ma soprattutto dei grandi artisti. Bene, oggi voglio fare due chiacchiere insieme a voi in attesa del programma selare Vacanza La Radio, dove ti ricorderò parlerò della Sicilia e voglio parlare con me di Conti. La regia la sta per chiamare, sentirete il suo brano, anche lei canta in lingua inglese, ovviamente io ho avuto il piacere di ascoltarlo ormai da qualche giorno, quando mi è stato inviato da Lucilla, il suo ufficio stampa, devo dire è un inglese molto fluido, molto fluido, io che siamo abituati a parlare come agenti di viaggio, come discografici, siamo abituati a parlare con persone di madrelingua e devo dire che il suo è molto fluido e soprattutto è comprensibile e questo aiuta la musica ad entrare nel quotidiano, ecco, non è un inglese duro, un inglese difficile, un inglese incomprensibile, ma molto fluido. Bene, la regia sta chiamando Mary, l'aspettiamo per parlare con lei dei suoi brani, della sua carriera. Ciao Mary, benvenuta a Radio Vacanze, come stai? Bene, grazie, a voi? Tra il bene e il benissimo, a sua scelta, dica pure, questa è pura, questa battuta era di un nostro cittadino romano come noi, anche come sai la radio è a Roma, e che lui era del 1916, pensa, si chiamava Giacomo Pizziconi, e quando io dico, come va, tra il bene e il benissimo, scegli tu, e tu dici, orca miseria, orca. Sì, 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 no, no, ti faceva iniziare la giornata in un'altra maniera, che mi rendi conto che ne vale la pena. Senti, io mi sono quasi spaventata a leggere il tuo cuore in vita, ma sei sicura che sei di questo pianeta? Sì, sì, perché io onestamente, mamma mia. E che ci avrei letto mai? Sai che c'è, come si dice, spesso e volentieri, molti artisti romani, scusami romani, più di tutti italiani, cantano in lingua inglese, no? Io ho sentito il tuo brano, ovviamente sentendo un inglese così fluido, se uno non lo dice, che tu sei italiana, neanche se ne accorgi, no? E allora questa, sai, io come agenzia di viaggio e turoperato, essendo una radio specializzata in turismo, io sono abituato a lavorare con l'isola di Barbados, praticamente il colmo in tal britannico, dove l'inglese è acqua di roe, cioè, come si dice, è molto fluido, è molto semplice, dice, cavolo, santa miseria, cioè, se non mi avrebbero detto che stavo sentendo un brano, dico, va, 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 se mettevano la tua voce su un brano di Calypso, che è la musica loro che hanno sull'isola, tu, per me, puoi cantare quella, non c'è, non c'è quello che si mangia, le parole, no? Non so se ti è mai capitato, poi tu sei il mestiere, riesci anche a sentirlo prima di me. E allora, poi ho visto, dico, ma... Sì, poi magari vorrete chiedermelo durante l'imprevista, poi avrete letto magari anche, appunto, la biografia. Ho visto tanti anni, poi lo studiavo già da quando ero bambina, 8 anni già lo parlavo bene, perché mi è sempre piaciuta la lingua, Sì, sì, no, ma poi ci sono le persone portate rispetto a tante, no? Perché io, ormai, sono quasi 35 anni che faccio turismo, dunque il contatto con la lingua inglese è cominciato nel 1978, poi puoi capire tu, insomma, però ecco, si sente all'orecchio, chi non ha, come si dice, chi non ha, non deve forzare, no? Ma gli viene tranquillamente naturale, questa è una bellissima cosa. Poi, ovviamente, no, ma che scherzi, no, come si dice, ognuno, no, se è bravo è bravo, appunto, non è che ci vuole tanto. Vito, vito anche nella biografia, ecco, Moses Wright, ho questo ragazzo, io non l'ho avuto il piacere di ancora andare più profondo, ma quanto è stato importante per te lavorarci insieme? Ma, eh, direi, direi molto, perché comunque Moses, io ero una fan di Moses, perché Moses faceva parte di uno... Sì, ti sento, dimmi. È stato molto importante e significativa per quanto riguarda la nascita di un nuovo sound, no? Certo. Che era il sound tra la fine del pre-pop e del chillout, quindi era una band e si chiamava di Piro 7. E... Sì, praticamente lui era il frontman di Guttapendi, insieme ad altri tre cantanti. Poi, diciamo, con loro ha scritto i primi due album, era una collective band. E' così, no, 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 no comprendere quelli che sono i messaggi quello che uno vuole e vuole raccontare e allora mi dicevi dopo questo incontro e si è andato avanti e dove dove siamo arrivati perché vedo anche passaggi con i con i chitarristi americani io ho conosciuto diciamo una chitarrista americano gary lucas prima di moda proprio qualche giorno prima di moda perché io lavoravo per una web magazine musicale si attraverso questo magazine che si chiama roma musica però non ho scritto una biografia ho avuto modo di essere in contatto con diversi artisti quindi li ho contattati perché volevo intervistarli poi da questa vista chiaramente è nato poi tante volte rimangono dei rapporti come no agli sapendo poi loro che io anche sta anche scrivevo che suonavo o che cantavano i miei corsi da l'inizio non sono delle demo sono stata prima magari lucas invitata a scrivere un pezzo che lui chiaramente è stata un'occasione d'oro e logico per capirci tu conosci già parte sì 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 fino lì ancora ci arrivo di più di persone che il fatto loro lo sanno ecco via questo è importante per dirti quanto per me fosse importante proprio la verrà spalamente conosciute queste persone prima ancora di lavorarci è certo no ma hanno ognuno nel suo campo hanno hanno comunque se trovi sulla tua strada persone che hanno un valore soprattutto sai cos'è importante meri persone che sanno riconoscere il valore nella persona che hanno davanti è una grande cosa questa secondo me determinante anche a noi succedeva tanti tanti anni fa nei primi anni 90 quando c'erano veramente dei colossi del turismo che andavano a cercare nelle agenzie nei turo per edo persone a cui affidare le destinazioni e poi ti giudevano dentro una stanza d'albergo con i corrispondenti di tutto il mondo ovviamente in lingua inglese di raccontare le cose dunque capisco quello che tu dici cioè la sensazione che ho provato io la prima volta che mi sono messo davanti appunto a un eccomi qua eccomi qua adesso sto mi senti meglio mi senti meglio adesso ok mi avvicina ancora di più allora ti dicevo appunto incontrare nella vita persone che sanno riconoscere il valore che tutti i porti dentro a prescindere il mestiere che fai è determinante questo quello che ti volevo trasmettere è vero senz'altro sicuramente per me è stato così infatti e quindi anche conoscere moses da fan che ero e intervistandolo ho scoperto prima di tutto una persona a livello umano fantastica e poi è nata diciamo una collaborazione successivamente proprio perché lui era incuriosito da diciamo dal fatto che io scrivessi quindi un giorno sono partita per londra gli ho portato i miei brani che erano solo delle cose e lui ha capito che forse c'era qualcosa e quindi ha voluto diciamo dedicare nel tempo per poter proprio alla fine produrre il mio album quindi alla fine lui è il mio produttore con il quale ho pure ho scritto i brani ovviamente i brani sono stati rivisitati no certo per quanto essere per più buono è stato comunque rivisitato soprattutto a livello di scrittura cioè di come noi scriviamo poi dei concetti gli italiani conosciamo bene la lingua magari scriviamo delle prati in inglese pensando che che abbiano senza e invece per l'inglese spesso non è così quindi mi ha aiutato molto in questo proprio per a livello di scrittura è stato fondamentale e sì perché certo ma stavo vedendo io infatti quando ho letto il titolo della cosa se lo traduce in italiano significa appendere un bacio giocchi un attimino che no in realtà questo titolo me l'ha contestato addirittura lui che mi ha detto questo non è inglese per quella della concerta perché anche di gerbari che recita l'interno della mia anima è un po' una certa poetica certo certo ma ci sta e ci sta e come la concerta però lui non l'avrebbe detto però in inglese è corretto che c'è il chimi è di nonna no ma ci sono mai ragioni io ti stavo dando secondo c'è hai centrato qual è la cosa perché ovviamente ci sono tante fasi tante fasi idiomiche che sono no che hanno senso soltanto in quella lingua è logico questo è scontato e allora li ho capito appunto che c'era qualcosa di tuo e ma importante anche questo perché in queste piccole sfaccettature e credo che chiari ti abbia capito che abbia concesso questo ti permette di identificarti capito c'è questo brano adesso è tuo non può essere è come un collage che ti torna addosso il maglione che tu ti metti sta bene a te non sta bene un'altra persona in poche parole secondo questo il mio punto di vista e devo dirti che io ho usato già il tuo brano passato in radio e le persone appunto che mi hanno diciamo che seguono un po la mia mia di un altro dice ma sicura che italiani guarda italianissima anzi è romana di qualche giorno me la vedo anche davanti l'agenzia davanti alla radio magari ci divertiamo insieme ecco perché c'è poi uno sai no come me quando ritornano dalle io propongo delle destinazioni che magari di per lì la gente dice ma 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 dove stai a mandano detto proprio alla romana poi quando torni c'è ma lo sai che c'è ragione io non pensavo no ma tutte queste cose io ti faccio un esempio sciocco poi torniamo a te stasera parlo della sicilia no ma tu lo sai che la sicilia è parte di solo più grande d'italia ma tra tante le isole che costeggiano l'italia ben 15 fanno parte della regione sicilia stai dunque quando ti dicono ma se stanno in sicilia ci si l'ho vista tutta quante volte una stanno a parlare altro capito stanno proprio a parlare di altro così come in tutte le cose cioè voglio dire c'è quella persona che dice ok ti identifico questo è cosa tua e questo è quello che ha fatto lui senti e andando ovviamente avanti e poi ripeto appunto il brano uscito nel 2012 poi me lo vado a cercare perché tutti i brani ormai li devo ascoltare ma anche nella mia etichetta li trovi a nella versione shop c'è proprio gli altri artisti però mi cerchi mari certamente no ma lo farò lo farà volentieri perché voglio portarli in radio anche ad ascoltare ad altri ragazzi e beh ma fa piacere siamo qui siamo qui apposta ecco su questo si deve ascoltare e moda si è poi a i capi da che gli altri tutti per amore fare la pena ma lo vado a cercare perché un po lo sai come tutte le cose no quando le scopri venite fammi un po capire fammi un po vedere un po come il piatto che assaggi come il suono che senti per la prima volta io cerco sempre detto tornando a me mi spiego nel mio una cosa nel mio campo perché magari mi resta più facile però io posso dirti che c'è quando si parla molto generalmente di caraibi per esempio tutti parlano così invece c'è il caribe spagnolo il caribe inglese quello americano quello olandese quello francese e con ognuno si ti porti appresso delle tradizioni dei suoni turchi in caso suona in modo barbato se non altro alla giamaica in un altro e se però non te lo spiegano perché è tutto uguale e il corso invece non è così capito se vuoi saperlo comunque questo è un collective band c'era anche sia mai la cantante sia sì sì anche le voglio dire andiamo piano piano comunque esiste poi l'identità delle persone rimane quello rimane quello alla base senti cosa vorresti augurarti per il futuro come finisce questa piccola prigione dico io mi auguro semplicemente cioè semplicemente adesso è una parola grande comunque mi auguro di tornare di tornare a fare in libertà mi auguro la libertà per tutti che si sia bene si ricorda che capisco che non sarà subito immediatamente così però mi auguro questo in realtà non chiaro altro beh una gran cosa e al mio diciamo discorso artistico non so se facendo riferimento a quello sì sì no beh ovviamente alla persona e all'artista perché sai secondo me non si scende poi tanto l'artista e la persona poi viaggiano insieme non è no se fermi uno fermi l'altro pressoché insomma quella cosa che ti fa ok secondo me sì perché tanto queste sono cose innate secondo me meglio ce l'hai o non ce l'hai no ci sono gli artisti a cui mettono in mano i brani magari hanno una bella voce cantano ci sono quelli artisti invece che hanno hanno quella come ha detto dunque la miccia quella cosa che si accende e poi viene identificato e tv è diventa tua la librano e anche ovviamente l'ascolto il pubblico che ti segue io ho visto che abbiamo delle amicizie in comune come danilo della gioco care band danilo è stato qui con me abbiamo fatto un'ora di diretta radio ricordando gioco poker no e comunque la l'artista lo vivi ed è attaccato alla persona dunque anche adesso se se sei quello sarei sempre quello no come se come dimono se nasci tondo non muori quadrato no sì sì ma sicuramente sì bene senti vedo la regia che sta lampeggiando sui con il suono il tuo brano il posso farti i miei migliori auguri ma vorrei che prima di lasciare che tu dai dai appuntamento agli ascoltatori radio vacanze sui tuoi contatti social lo condividerò ovviamente anch'io il profilo facebook ma dallo anche tu così magari ti vengono a trovare ciao grazie allora ciao buona serata meri ciao allora i ragazzi qui a radio vacanze come sempre gli artisti hanno una voglia di raccontarsi allora noi li facciamo raccontare again on and kiss ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.